Bene amici, benvenuti in un nuovo, nuovissimo video. Come vedete abbiamo aggiornato un pochino il background della postazione da gaming e da youtuber. Postazione tra l'altro che vi ricordo condivisa anche con JustMillare che è la mia compagna, vi lascio il link in descrizione per iscrivervi anche al suo canale. E niente, in questo video ovviamente parliamo di produttività personale, degli strumenti che utilizzo e come organizzo le mie giornate. Prima però di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like al video e commentate il video che mi aiuta a salire con l'algoritmo di YouTube. E niente, partiamo con la sigla e poi col video. Allora, come organizzo le mie giornate? Parliamo ovviamente di vita da content creator, quindi youtuber, e varie affiliazioni che poi vi spiegherò. Intanto partiamo dal presupposto che tutto quello che io pubblico su YouTube e sui altri canali social, trovate tutti i link ai miei social network per andare a seguirmi in descrizione, mi raccomando. Quindi seguitemi anche su Instagram, TikTok e guardate i miei shorts su YouTube ovviamente, dove trovate un sacco, un sacco di offerte Amazon. Ma il fulcro della situation. Come organizzo le mie giornate? Anzitutto lo strumento principale che non posso fare a meno è il mio smartphone, che è un iPhone 13 Pro. Non ho preso il Max per un discorso di comodità, non per risparmio, ma di comodità per trasportarla bene in tasca, perché il Max per quello che non c'è la mia è troppo grande, però ovviamente ho preso il modello da 256 giga, perché ha la possibilità di registrare in modalità ProRes. Quindi, se voglio fare delle riprese veramente, tra virgolette, fighe, posso farlo. Questo smartphone mi accompagna in ogni cosa, anche nell'editing dei miei video, perché se voglio, edito qua dalla postazione qua di fronte a me. Quindi do un PC con uno schermo da 27 pollici, con Windows 10 e quant'altro. Ma, se sono in mobilità, posso fare l'editing direttamente dal mio iPhone. Cosa uso per editare i video? In shot. Vi lascio qui l'icona. Ma nell'iPhone non c'è solo il programma per editare i video, ok? È una fotocamera stupenda, perché io faccio tutti i video, in questo momento sto riprendendo addirittura con la fotocamera frontale, quindi neanche la top di gamma dell'iPhone. Perché le migliori fotocamere sono quelle posteriori. Nella mia giornata lavorativa, l'iPhone è importantissima. Perché? Perché poi ho tutto sincronizzato, ho il mio cloud che gestisco su Google Drive, quindi tutti i miei file sia di lavoro che personali sono lì sopra, così come la sincronizzazione delle foto, la sincronizzazione dei video e sempre tramite l'account Google anche la sincronizzazione del mio calendario, quindi Google Calendar, che ho installato anche sull'iPhone. Infatti io sull'iPhone non ho più installato l'applicazione calendario di iPhone, anche se si può tenere e sincronizzare con il calendario di Google, ma personalmente mi trovo meglio col calendario, proprio con l'app Google Calendar. Secondo me è il top. Lo stesso per le note. Io ho le note, al contrario di quello che si può pensare, ah, fa il figo, vuol fare, prendere le note su Notion. Allora, io le note le prendo su Google Keep, che è appunto di Google, e le posso vedere da qualunque dispositivo, così come Google Drive e anche Google Calendar. Ma per quello che concerne la gestione e l'avanzamento di tutti i miei progetti, invece gestisco direttamente tutto tramite Notion. Non è questo il tutorial dove vi mostro come utilizzo il mio Notion, seguirò un video tutorial dove vi spiego come utilizzare al meglio il Notion per aumentare di brutto la vostra produttività. Sì, perché io tutti gli step per la realizzazione dei miei progetti sia per quanto concerne il discorso della content creation per i video che pubblico su YouTube, piuttosto che gli shorts, le storie Instagram e i video su TikTok, ma anche per quello che concerne la parte di affiliazioni, quindi i contenuti per quanto riguarda le affiliazioni di Amazon, quindi che prodotti andare a sponsorizzare le affiliazioni Amazon, si guadagna, non è un segreto, e si guadagnano anche dei bei soldini. Quindi la predisposizione di quello che io dovrò fare durante la giornata ce l'ho su Google Calendar. E attenzione, la sera io, prima di andare a dormire, organizzo la mia agenda in modo da avere tutto prefissato con tutti i task da dover svolgere il giorno dopo, in modo che non si perde il tempo. Ovviamente, oltre al mio iPhone, c'è il mio notebook, che lo utilizzo sia in postazione fissa, che in giro, quindi posso usare un portatile, l'ortocomico lo metto nello zain, e vi assicuro che rispetto a un tablet, ho provato a lavorare con il Galaxy S6 Lite, ma la velocità che ho con il computer portatile e Windows 10 è ineguagliabile. Cioè, avevo riscontrato che dal tablet impiegavo molto più tempo a fare le cose, quindi ci ho rinunciato. E infatti, mi sono tolto il tablet. Ho dato via il Galaxy Tab S6 Lite. Ovviamente, oltre a un discorso di app di calendario e di note, e app di video editing, per gestire meglio la mia giornata lavorativa, utilizzo anche altre applicazioni, ovviamente, tutte le applicazioni dei social, l'app di YouTube, l'app di YouTube Studio. Io, se volessi, posso fare gran parte del mio lavoro direttamente dall'iPhone. Perché ho scelto un iPhone? Principalmente, per due principali motivi. Uno, la fotocamera, perché l'iPhone 13 Pro ha una fotocamera che è incredibile. Riesco a fare delle riprese, dei A-roll, ma anche dei B-roll fenomenali. E poi, per la durata, nel senso che un iPhone ti deve durare molto di più. Poi sono uno smanettone, magari io ogni anno, ogni due anni cambio lo smartphone, anche meno, ma se uno vuole un iPhone, ti dura otto anni senza problemi. Magari ci fai un cambio di batteria e quant'altro, però, vi assicuro che la durata di un iPhone, uno smartphone Android, non ce l'avrà mai. l'altra alternativa sarebbe un Samsung Galaxy S22 Ultra, oppure anche degli Oppo. Ho provato un Oppo il tempo fa, c'è anche un video dove ne parlo nel mio canale, però, come mi trovo bene con iPhone, non fate questo. Ovviamente non utilizzo per editare il video dallo smartphone iMovie, in quanto ha una serie di limitazioni che, per quello che concerne la realizzazione dei video professionali, per me non va assolutamente bene. Devo ammettere che la durata della batteria di questo telefono mi aiuta a arrivare a sera ancora con il 20% di batteria, nonostante lo stress di continuo e quindi un ottimo prodotto. Torniamo al fulcro dell'argomento, come si svolge la mia giornata. Se vieni a essere il 7 di mattina a se fare la giornata, prima cosa che faccio, mi butto in bagno una bella doccia fredda. Sì, doccia fredda perché ti rinvigorisce, ti dà una bella svegliata e ti senti subito energico. Dopo la doccia fredda ci si veste e un bel caffè ristretto, senza zucchero e una briochina, ovviamente tutto in casa, e poi comincio a leggere le mail e a rispondere alle mail. Nel frattempo faccio il punto della situation, dopo aver risposto alle mail, e vedo tutto quello che devo fare durante la giornata. Sì, perché io mi imposto dei timer durante la giornata perché do delle priorità. Quindi se io devo dedicare due ore per fare l'editing di un video tra le 9 e le 11 del mattino, per dire. Ok, in quelle due ore mi dedico a quello, alle 11 in parte il long timer, che il tempo è finito, e dedicherò altri 10 minuti, un quarto d'ora, a leggere le nuove mail che mi sono arrivate. Terminato il quarto d'ora avrò un timer che mi darà, che ne so, mi imposto una pausa di mezz'ora in cui me ne vado un po' sui social network e arriva poi l'ora di pranzo. L'ora di pranzo si mangia, YouTube comincia a guardarmi video dei creator che seguo maggiormente, dopodiché, finito di mangiare, si riprende a lavorare. Quindi si comincia a lavorare sulla parte delle affiliazioni, quindi che sia Amazon piuttosto che altre affiliazioni e realizzo tutti gli shorts che poi vado a pubblicare automaticamente su YouTube. Quindi tutti i link, organizzo tutto quanto. Predispongo, diciamo, la pubblicazione degli shorts. Ovviamente, terminata questa fase, ridedico di nuovo un quarto d'ora o venti minuti alla lettura delle mail e poi mi dedico una mezz'oretta a leggere le notizie, sia locali che a livello nazionale e internazionale, piuttosto che le notizie che interessano a me di tecnologia e quant'altro. Dedico anche una mezz'oretta, venti minuti al giorno a guardare, diciamo, a documentarmi su nuovi programmi che possono essere usciti e nuove app per gestire al meglio la propria produttività e poi dedico quei 5-10 minuti anche a leggere frasi motivazionali. Sì, perché leggere frasi motivazionali vi aiuta tantissimo nel vostro percorso lavorativo e personale a essere molto più produttivi ed efficienti. Ovviamente, il pomeriggio c'è sempre una pausa caffè, così come anche al mattino, scusate, non l'avevo detto. Detto questo, poi arriva l'ora di cena. Solitamente, prima di cena, mi dedico sempre a tirare giù le idee per il prossimo video, comunque a tirare giù il copione, a scrivermi la parte di copione e dopodiché se arriva poi l'ora di aperitivo o cena, esatto, perché spesso io faccio l'aperitivo magari e non ceno, oppure faccio aperitivo e cena, poi dipende. Terminata la cena, mi rimetto su YouTube a guardare alcuni video. Capita spesso che a volte anche direttamente dallo smartphone la sera mi metto ad editare o a pubblicare o a calendarizzare le pubblicazioni che ho appena finito di creare editando il video con InShot. Dopodiché comunque capita che mi posso guardare un film o video, diciamo che passo tantissimo tempo su YouTube perché ormai la mia piattaforma di media streaming preferita è YouTube quindi che possa guardarmi contenuti dei miei creditori preferiti su YouTube poi esce il film che mi piace me lo guardo in streaming e quant'altro. E questa è una giornata che poi solitamente intorno alle 11 vado a dormire esatto perché se poi ti alzi alle 6 o alle 7 devi dormire quelle 7-8 ore per me le 8 ore canoniche sono importantissime bisogna dormire e ovviamente un'alimentazione sana. Non ho ancora messo il discorso dell'allenamento e quindi dell'esercizio fisico perché non ne sto facendo ma inizierò a breve anche un percorso di allenamento e anche un percorso nutrizionale che aiuterà sicuramente la mia produttività e essere molto più efficiente nelle cose. E anche lì poi seguirà un video dove spiegherò le app per allenarvi quali utilizzare quali sono i migliori poi ovviamente qua al mio polso ho uno Xiaomi Watch che tiene traccia di tutti i miei percorsi quindi quanti chilometri che faccio i passi che faccio il battito cardiaco e ho un sacco di attività fisica da poter gestire direttamente da qua e si aggiorna anche con l'iPhone che è un'ottima cosa quindi nonostante sia un dispositivo non Apple si può tranquillamente sincronizzare puoi ricevere le notifiche non puoi rispondere le chiamate perché è uno smartphone ci dà 40 euro però diciamo quindi tornando a noi che la mia produttività personale e la mia giornata lavorativa si svolge in questa maniera e vi assicuro che funziona bene nel senso che mi sveglio e riposato parto con una forte energia positiva al mattino e si riesce a lavorare lavorando a step è importante darsi delle priorità e dei tempi per fare le cose quindi lavorare a scaglioni con un timer cioè sì quale due ore devo fare video editing tra le 9 e le 11 non vado a leggermi le email e anzi disabilitate le notifiche dal vostro smartphone si non dovete essere disturbati ok uno degli uomini più ricchi del mondo tra gli uomini più ricchi del mondo è Elon Musk ha sempre il telefono comunque o silenzioso o le notifiche disabilitate perché? perché le notifiche ti portano a distrazione se li fai una cosa una notifica o qualcuno ti tagga da qualche parte o facebook instagram vai lì giri scrolli cominci a fare scroll mezz'ora e la giornata è bella che è andata bisogna darsi delle regole e vi assicuro che funziona riuscite a ottenere degli ottimi risultati lavorando il giusto senza strafare bisogna lavorare il giusto poi c'è la giornata che lavori 13-14 ore e c'è la giornata che ne lavori 4 l'importante il bello di fare la content creation è che ti puoi organizzare la giornata come vuoi seguiranno altri di questi video e seguirò anche un video tra l'altro avete risposto al mio quiz quali app vi piacerebbe che vi recensisca per la produttività vinto la Google Calendar quindi seguirà una recensione dettagliata su come utilizzare al meglio Google Calendar per la vostra produttività sia lavorativa che personale e anche per lavorare in team e quant'altro e niente ragazzi grazie ad avermi seguito vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per le notifiche mettere un bel like al video commentate commentate il video che mi ha aiutato a salire con l'algoritmo di YouTube grazie di tutto il supporto che mi state dando abbiamo raggiunto i 1030 iscritti e non so veramente come ringraziare grazie di cuore davvero tutto il supporto che mi state dando e noi ci vediamo nella prossima puntata ciao ciao Oh...